A partire da mercoledì 23 febbraio, un mercoledì al mese, si terrà un nuovo gruppo di automuto aiuto, questo proposto dall'associazione Fior di Loto, donne operate al seno, con le quali abbiamo fatto tante iniziative in città di sensibilizzazione e cura, ma anche prevenzione. Un appuntamento gratuito, libero, aperto a tutte le donne che sono nel percorso oncologico, per cui vi invito a farvi avanti e mettervi in comunità anche con altre donne che vivono la vostra stessa condizione, perché farlo insieme è di grande aiuto. L'associazione Fior di Loto ha la possibilità insieme al Paricentro di offrire questo percorso di automuto aiuto per donne operate al seno e non. Il percorso riguarderà un incontro di gruppo mensile per tutte le donne che condividono il percorso oncologico, quindi già operate o anche in via di trattamento, quindi chemioterapico, radioterapico, farmacologico. Il gruppo è assolutamente aperto, le donne possono partecipare anche a un incontro saltuario, nel senso non è necessaria la continuità a tutti gli incontri. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci tiene a sottolineare quanto nel percorso tra pari sia importante condividere e supportarsi all'interno di un gruppo nell'esperienza che si sta vivendo. Questo è molto importante ed è vitale proprio per il processo di guarigione. Quindi accoglieremo tutte al Paricentro un mercoledì al mese e vi aspettiamo. Ci si potrebbe presentare anche senza l'iscrizione, però se volete telefonare al Paricentro direttamente per ricevere le informazioni saremo felici di fornirvi tutte le informazioni necessarie.